Oggi ci siamo ritrovati per dire delle cose a favore, per dire la verità, perché i sentimenti sono veri e io mi impegnerò a raccontare, lo faccio sempre, lo farò ancora di più in questa occasione a raccontare i biccari per quello che è, nei confronti di chi non la conosce, nei confronti di chi troppo frettolosamente ha usato termini che sono per tutti estranei alla nostra realtà. La volta che ho avuto bisogno io mi sono sentita ascoltata, non sentita da quella maestra, ma ascoltata. Per quanto riguarda le altre maestre, perché mio figlio le ha perse tutte e tre e forse è più pesante la situazione, era quello che serviva per mio figlio, cioè quel cartellone, le nostre maestre, la cosa più bella che hanno avuto dalla scuola, mio figlio ha avuto la cosa più bella dalla scuola, le sue tre maestre e quindi la soddisfazione di avere mio figlio in quella classe, con quelle tre persone adorabili e acquisire la serenità che ha acquisito quest'anno. mio figlio è stato culturato l'anno precedente e grazie a quelle tre persone ha trovato la serenità. Quindi finché abbiamo coraggio e forza, cerchiamo di dirlo, prima o poi la verità deve venire a galla, io ci credo, non credo che si può, ma non esiste, non è possibile, altrimenti sarebbe, mi sentirei come italiana veramente profondamente delusa. hanno detto, mamma stai tranquilla, perché loro sono brave, la giustizia è buona, messi a confronto, le nostre maestre ritorneranno, questa è la voce dei nostri figli, non ci vogliono ascoltare, non vogliono ascoltare loro, perché penso che sia troppo forte questa voce, perché è la voce che è di innocenza. Noi non abbiamo mai sentito né una parola, né un gesto fuori posto, quindi con lei abbiamo fatto un corso che è durato mesi e quindi mesi oppure lavorare anni, una parola doveva uscire fuori posto, non l'abbiamo mai sentito. Queste persone stesse, sono delle persone per bene, il mio primo figlio è andato con la maestra Congetta e la maestra Ernesta, sono degli insegnanti che hanno educato questi ragazzi con un metodo moltissori ed è stato un metodo veramente efficace. quindi hanno veramente educato i nostri figli, i nostri figli hanno già manifestato per le loro maestre con una lettera di affetto, col dire non mollate, vi vogliamo bene, vi rivolgiamo in classe perché non è giusto. Sono le mie maestre, sono le mie maestre che mi hanno aiutato tantissimo perché io ho un problema di disgrafia e dislessia, quindi ho anche un problema a parlare di fronte a voi, l'hanno scoperto loro e sono state veramente brave a non mettermi in nessun tipo di imbarazzo, a evitarmi qualsiasi problema, mi hanno sempre aiutato e io oggi faccio un lavoro che tutti sapete che sono appuntico e riesco a parlare grazie ai loro insegnamenti. Ho lavorato per tre anni con queste maestre, vi posso garantire che mi hanno fatto sentire a casa mia, c'è un gruppo favoloso, favoloso, delle maestre bravissime che guardano i bambini e dicono ma che belli questi bambini, c'è una cosa mai vista. Il mio figlio non ha mai riportato a casa a malessere di scuola, anzi lui era contento di svegliarsi la mattina e di andare a scuola, quindi l'hanno, tutto quello che è stato detto non si sente niente.